amici ed amiche del canale di dub logistica un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento con la serie trader life simulator 2 come sempre ringrazio gli sviluppatori della dna army per avermi concessa la chiave di gioco oltre naturalmente saluto e ringrazio tutti quanti voi che vi iscrivete ai miei canali social che nella descrizione del video oltre a trovare il link per seguire i miei canali social troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70 per cento oltre naturalmente a campanellina se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano visita il sito www.ipianibio.it www.ipianibio.it li trovate anche su facebook ed instagram ragazzoli vi auguro intanto buon sabato buon fine settimana naturalmente mi auguro come al solito che abbiate passato una bella settimana e naturalmente saluto come faccio sempre mister morino poi saluto naturalmente il mitico gilio e tutta la big family della azienda agricola i piani bio e naturalmente saluto mister ah yeah yeah allora ragazzoli per chi si fosse perso l'episodio precedente naturalmente lo troverete nella playlist dedicata a 3d life simulator 2 vi farò un breve un breve riepilogo nell'episodio precedente abbiamo acquistato il banco frigo questo qui ovviamente ho dovuto rifare un po di cose perché ho perso il salvataggio e quindi ho dovuto rifare un pochettino tutto da capo quindi adesso visto che abbiamo acquistato il frigo io direi di andare ad acquistare un po di cose andiamo da jabber e poi andiamo anche da peppinoparularo hashtag peppinoparularo andremo a fare un po di riassortimento dell'episodio andremo ad acquistare finalmente le le bibite quindi un po di merce che potremmo anche iniziare a utilizzare il banco frigo quindi ragazzuoli ci becchiamo direttamente da jabberro a tutta le hava a fra poco ovviamente vi ricordo di lasciare sempre del denaro in cassa perché ovviamente servirà a pagare il nostro vincenzo vediamo un po di jabberro come si è vestito uuuh jabber ti sei fatto questo giubinillo di pelle eh zio tabba veramente qua si schiatta da calore ma mi voglio sparare la vostra uuuh jabberro eh ma tu così fai la sauna e non so zio tabba ma io qua la mattina presto vengo da qui nel negozio vengo con la motocicletta hai capito a jabberro ti sei accattato pure una motocicletta bravo jabberro Senti Jabber, sono venuto a prendere un po' di prodotti da frigo. Grazie Jabber, finalmente ti sei attrezzato. Bravo, bravo. Mi raccomando, spendi i soldini. Spenditi bene qui, tazzo Jabber. Applausi. Grazie Jabber, grazie Jabber. Senti, io faccio due salti però. Vado a prendere un po' di cose poi. Vado anche da tuo fratello Peppi. Va bene, zio Jabber, mi raccomando, spendi bene, spendi tutti i soldini. E mi raccomando, amici di YouTube, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate le notificoze. Hashtag notificoze. Grazie, ciao Jabber. Ci becchiamo, dai. Ciao, 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 buona spesa. E grazie. Allora, intanto vediamo un attimino cosa chiedono. Chocolate cookies, fruit ice cream. Fruit ice cream, queste le possiamo prendere, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, fruit ice cream, fruit ice cream sta qua, misa la vaniglia. Allora, probabilmente non è adatto quello là. Quindi prendiamo un po' di ore, tutti questi qua. Quindi, latte. No fat milk, ok. Il latte senza grassi, poi prendiamo. Vai, ci spendiamo un po' di più. Dobbiamo riempire un po' il frigo. Yogurt è troppo alto. Questo pure. Il foc my show. Dobbiamo assolutamente iniziare a vendere anche i prodotti in fresco perché abbiamo speso un po' di soldini e ovviamente dobbiamo vedere anche quant'è il ricavo. Allora, siamo rimasti qua. Cheers. Questo è alto. Questo per il movimento anza di palla. Burro di Wack, Wash. Questo è alto. Good price. High price. Good price, ok. Dunque, fammi dare un'occiatina. Vediamo un po' se mi manca qualcosa. Diamo un'occiatina. Allora. Corn snack, chocolate cookies, oil quindi, air oil che dovrebbe stare. Eccolo qua. Scarisce. Sistemiamo l'automobilina. Allora, ragazzi, pesciamo così. Io adesso, nel frattempo, mi finisco di caricare la macchina e poi ci becchiamo direttamente al negozio. Vediamo prima un attimo una cosa. Allora, fruit skin chocolate cookies, ok. E corn snack, ok. Quindi, chocolate cookies, quindi biscottini di acercolato. Chocolate cookies, va bene. Corn snack. Ok. Ragazzoni. Allora, mettiamo questi due scatoloni. Noi ci vediamo. Di atto non bello, ragazzi. Cocco. Andiamo, ragazzi. Ci becchiamo. Di atto, monta, negozio. E tu, se tu. Allora, ragazzoni, stavo pensando, da parte di, comunque dobbiamo passare anche da Peppiniello. Guarda, un peppino paruaro, il nostro, il nostro fornitore di, di frutte e verdure. Poi vorrei fare anche un saltino, nel panificio perché vorrei, vorrei, vorrei mettere qualche tortina qui all'interno del frigo, sperando che ci entrino, ovviamente. Quindi, ancora una volta, ragazzoni, buon sabato. E, naturalmente, campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visita il sito www.ipianibio.it Ripeto, www.ipianibio.it Caro Giglio, come vedi, io ti nomino sempre. Magari, se senti questo messaggio, passa nel canale, mi raccomando. Lascia un bel commento. Naturalmente, salutami tutti i collaboratori dell'azienda agricola. La mitica azienda agricola, applausi, vai! Allora, ragazzoli, io direi di fare una cosa. Per non, per non tagliare, ma nemmeno per annoiarvi. Io direi che quelle poche cose che riuscirò a sistemarmi nel banco frigo, come al nostro solito, ve le farò vedere con la tecnica del hyperlapse, e non il dublapse, né tantomeno il timelapse. Hyperlapse. Vincere? Dai tu il video. 3, 2, 1, vai c'è l'app, vai con la mella app. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le patatine fritte purtroppo non vanno nel frigo che abbiamo preso, quindi magari le metteremo nel prossimo episodio. Allora nel frattempo però andiamo un attimo ad acquistare i dolci poi naturalmente terminiamo questo video. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate le notifiche e naturalmente iscrivetevi ai miei canoni social. Visitate il sito www.ipianibio.it Ripeto www.ipianibio.it Li trovate anche su facebook ed instagram e naturalmente. Come dico sempre portate i miei saluti al mitico Giglio. Quindi quando fate il vostro acquisto mi raccomando, questo lo lascio qua, mi raccomando portate i saluti da parte del canale YouTube di Dublogistica. Sto sbagliando a mettere questi, devono andare qua, la cura della persona qua. Quindi ci stiamo quasi accingendo a finire questo video. Siamo quasi giunti al termine. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è abbastanza limitato. Quindi naturalmente nel prossimo episodio sicuramente andremo dal nostro peppino perché dobbiamo rifornirci. Perché naturalmente il nostro morire, altrimenti ci dirà. Eh zio Tab, ma quale cipolla non ci stanno? Però questo fa vedere un attimo come siamo messi a livello di cipolla e di salute pure. Allora abbiamo bisogno di cibo e d'acqua però. Andiamo a fare una Siacqua a olives. Hashtag Siacqua olive. Beh direi che siamo proprio, non siamo messi proprio precisi precisi. Allora ragazzoni, io approfitto ancora una volta per ringraziare gli sviluppatori per avermi concesso la chiave di questo gioco. Tutti voi naturalmente che avete guardato questo video. Come sempre vi chiedo la gentilezza di lasciare un bel like al video e naturalmente oltre a lasciare un bel like fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo. Lasciate un bel commento qui sotto. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti. E... Waiu. State buon buon. Grazie mille a tutti.